Abbiamo avuto una grandissima affluenza, forse una delle migliori di sempre anche in termini qualitativi. La domenica è stata una bellissima domenica, non affollata come in passato ma di grandissima qualità e lunedì o il giorno di oggi, martedì, veramente di grande qualità. Tanti operatori esteri, tanti importatori, sono licito tutti ma c'è stata una grandissima qualità e anche una grandissima competenza, c'è da dire che Vinitaly cresce insieme alla qualità. Noi in una fiera mediamente sappiamo mille bottiglie di vino che vuol dire 10-15 mila assaggi quindi è veramente importante per noi come riferimento il Vinitaly e quest'anno è stato uno dei Vinitaly sicuramente migliori anche perché gli anni che stiamo vivendo sono anni comunque difficili, complessi e avere sempre questa affluenza, questa affluenza che cresce nella qualità, nei numeri e nella diversificazione anche della prevenienza è importante.